In Vaticano, in udienza col Papa, il valore di questa giornata? Il Papa è l'uomo che forse al mondo si sta impegnando di più per la tutela del panietta, siamo felici di essere qui oggi, il Day, in una grandissima udienza generale dove il Papa ci farà un grande saluto, sarà per noi una grandissima forza per andare avanti. Grazie.